Ciao a tutti e grazie di essere qui con me oggi in questo nuovissimo Trattor Vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi siamo qua sul John Deere 8R per andare a lavorare il terreno con l'estirbatore per la terza volta. Adesso non voglio sempre, dato che è la terza volta che lo vedete, magari qualcuno è qua per la prima volta e lo saluto, però gli iscritti più affezionati l'hanno già visto per tre volte, in questo video voglio parlare un po' meglio della lavorazione e voglio parlare un po' del canale, di certi commenti che sono arrivati, farvi vedere alcuni aspetti, di conseguenza ci ritroviamo direttamente in campo. Comunque se volete il Trattorino Rasa Erba Vlog 2000 like in questo momento. Eccoci arrivati in campo ragazzi, come potete vedere c'è del bagnato, adesso vi spiego anche il perché ma è facile da capire e ci sono un sacco di erbacce, un sacco di infestanti e questo è stato uno, diciamo, uno dei miei dispiaceri. Questi appezzamenti qua, questi campi qua sono i primi iniziati del giro della seconda passata, con l'estirbatore, e alla fine, al termine di questa passata, quando ho terminato i campi, da lì a poco volevo riniziarli perché si erano sporcati. Il problema è che lì sono venuti giù circa 100 mm d'acqua nel giro di due giorni, hanno allagato e asfaltato il terreno e di conseguenza ho dovuto aspettare 10 giorni per far sì che si asciugasse, almeno un po', speriamo di non sfondarci e per poter entrare a togliere l'erbacce, che là come potete vedere sono veramente tante. Oggi è la mattina del 14 settembre, fa abbastanza freschetto e insomma dai, dato che lì c'è molto più bagnato perché dall'altra parte dell'asfalto c'è una risaia e quindi l'acqua passa sotto il terreno e ha alimentato tutta quella macchia di infestanti là nonostante la distanza, nonostante i fossi di scolo che ci sono là, niente da fare comunque il terreno sotto è sempre rimasto bagnato per tutta l'estate, nonostante la siccità. e quindi dato che qua c'è sicuramente più bagnato che qua, intanto faccio questa, poi magari verso mezzogiorno, perché adesso sono le 10 di mattina, verso mezzogiorno quando ho finito andiamo dentro a questa. Bene, tutto pronto, possiamo partire, ma cosa molto importante che mi sto per dimenticare di fare è segnare sulla mia applicazione le lavorazioni, la lavorazione appunto che vado a fare su questo campo. La vado a segnare sulla mia Apix Farm che tengo qua in basso verso le gambe perché c'è un sacco di riflesso e non vedreste niente, vado a registrare l'attività, campo questo qua è il blocco B, campo 3 e 4. Allora, minima lavorazione come al solito, scrivo minima lavorazione 15 cm di profondità, terzo passaggio, perfetto, dopo trattore come al solito, giondirotto R, attrezzo, rabewerk 6 metri, registra attività. Perfetto, come al solito nel giro di 2 secondi ho già aggiornato il mio registro delle lavorazioni, appunto questa cosa è molto importante e anzi è molto comoda. L'applicazione si chiama Xfarm perché in tanti me l'avete chiesto e soprattutto in tanti mi avete chiesto ma non riesco a trovarla sull'App Store. Questo video non so quando uscirà ma so che tutti i tecnici, tutti gli operatori, insomma lo staff di Xfarm sta lavorando per creare un'applicazione vera e propria. Per ora io la utilizzo tramite sito, tramite browser, comunemente da computer e telefono. Per avere una sorta di applicazione basta che nel browser premete le impostazioni o comunque i tre puntini o una rotellina in alto destro o in basso e fate aggiungi a schermata home e lì sarà come avere una sorta di applicazione. Comunque io la sto continuando ad utilizzare anche perché molti mi hanno chiesto fai vedere altre funzioni dell'applicazione e arriveranno appunto video in cui perché la sto utilizzando proprio per gestire la mia azienda e per registrare tutte le lavorazioni. Arriveranno adesso dei video anche di manutenzione così dove la vado ad utilizzare e vi faccio vedere le potenzialità perché è una cosa molto molto interessante. In ogni caso ho il link in descrizione. Allora qua possiamo iniziare. Non so se ci sfonderemo o meno. La profondità di lavoro è sempre quella perché appunto non voglio esagerare soprattutto in questa situazione e soprattutto perché considerando che la terra è già lavorata si sfonda un po' di più l'attrezzo già di per sé e arriviamo a 15 centimetri abbondanti. E comunque dovete ricordare che sono in minima lavorazione. La ratra non posso usarlo e soprattutto non posso lavorare e rivoltare gli strati del terreno a una profondità maggiore di 20 centimetri. Allora qua proviamo ad andare. Qua trovate motrici attaccate. Devo andare a un passo un po' spedito per non far riempire il rullo a gabbie. Il slittamento è buono. 4-5%. Direi che qua in questa zona perlomeno si può andare tranquillamente. Dopo il terreno è umido. Il grossissimo difetto del rullo a gabbie nel terreno argilloso soprattutto come il mio è appunto il riempirsi, fare delle palle da calcio letteralmente dentro al rullo e appunto devo andare un po' spedito qua per non farlo riempire. Vabbè che qua la situazione di vantaggio è che siamo in un terreno sabbioso. È l'unico terreno sabbioso che ho. Se vedete del fango sulle rive o comunque della terra molto bianca è perché ho fatto pulire i fossi con la ruota per i fossi, scava fossi, chiamatela come volete per appunto pulire, togliere terra nel letto del fosso sostanzialmente. Qua posso andare anche un po' più addietro. Mamma mia ma che bel lavoro che salta fuori. Direi che adesso, dato che devo fare qua dietro il fosso, devo concentrarmi un attimo. Parliamo assieme al secondo passaggio appunto tornando indietro. E anche ho visto uno che mi aveva detto però dopo un po' che parli a noi, un altro che mi dice parli troppo poco. Quindi per accontentare tutti parlo tanto dopo e adesso vi metto qualche spezzone della lavorazione fino a quando arrivo là in fondo che vi ricordo che sono un chilometro di campo. Alla prossima! Grazie a tutti. 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 Spero che questo video.